Si sono dati appuntamento domenica 20 marzo alle ore 10.30 presso la miniera Trabbia Tallarita, il Partito Democratico di Grigente e Caltanissetta e i circoli dei comuni ricadenti nella Valle del Salso, per sensibilizzare il Governo nazionale e regionale, l'ANAS, per il completamento di un tratto della strada statale 626, circa 11 km, che avrebbero però un impatto sulla viabilità della zona. Tratto che completerebbe la diramazione fino a congiungersi allo scorrimento veloce Caltanissetta-Gela, si legge nella nota. L'opera ha una rilevanza strategica per i comuni ricadenti nella Valle del Salso e per quelli adiacenti Caltanissetta, Sommatino, Riesi, Mazzarino, Butera, Gela, Licata, Ravanusa, Campobello di Licata, Canicattì, collega a due province, Caltanissetta e Grigento. L'importanza di completare quest'opera è basilare ed è la palistiana in quanto c'è un'opera già che esiste, che parte da Licata, attraversa Campobello, Ravanusa, arriva alle porte di Sommatino e da lì deve arrivare, nello scorrimento veloce, fra Caltanissetta e Grigento, Caltanissetta e Gela, scusate. Per quest'innesto mancano soltanto 11 chilometri. Questa strada è stata già realizzata, però nello stesso tempo è stata abbandonata a se stessa, perché era stata realizzata in alcuni punti in maniera errata, tant'è che l'alveo del fiume andava a coprire e a sommergere, nelle momenti di piena, la sede stradale. Di conseguenza si capisce bene che dal posto che sarebbe trabbiata la rita, dove c'è la miniera, da lì, quindi nei comuni, fra Riesi e Sommatino, a arrivare allo scorrimento veloce fra Caltanissetta e Gela, riuscirebbe a collegare immediatamente tutto questo territorio e per questo è molto importante. Abbiamo fatto un sit-in, un sit-in per manifestare proprio la volontà del completamento delle opere, perché il Partito Democratico vuole essere propositivo e costruttivo, innanzitutto cominciando dalle cose che già sono state fatte e che non si possono utilizzare, perché è così alla fine. Quest'opera c'è, ma non c'è, non esiste, nessuno la può utilizzare e quindi quello che proponiamo è sensibilizzare quelle che sono le istituzioni, l'amministrazione, non solo l'ANAS, ma quello che è la regione siciliana e il governo pure nazionale per ognuno per il suo proprio impegno, per poter fare realizzare finalmente quest'opera. Però già un primo risultato l'abbiamo ottenuto, senza neanche iniziare già il giorno precedente. Il sottosegretario ai lavori pubblici, a quanto pare già è interessato l'amministrazione, l'ANAS, per provvedere a far completare quest'opera.